Edizione speciale del Tg di Teleappula. Quest'oggi analizzeremo insieme con i cittadini la situazione sulla distribuzione dei sacchetti RSU presso il Simone Viti Marino. La situazione soprattutto nella giornata di ieri era quasi precipitata nel caos dove fra insulti e spintoni tutti cercavano di prendere la loro porzione di sacchetti. Analizzeremo in seguito anche le risposte del sindaco Giacinto Forte a riguardo. Siamo qui con uno dei cittadini che aspettano qui in fila. Lei cosa ne pensa di tutto questo caos per un servizio che soprattutto dovrebbe essere stato effettuato casa per casa? È una vergogna. L'agenda comunale quando vede queste cose non ha l'obbligo di dare le missioni e tornare a casa. Andate via. Una cosa in più. È impossibile vedere questo sfacere. Ma non vi mettete a vergogna. Un paese di 75.000 abitanti si arriva in questo modo. Eppure non sono nella prima guerra mondiale o nella seconda guerra mondiale. Se solamente deve vergognarsi. Come cittadini altamurani le posso dire appartamente e chiaramente in questo cosiddetto arco costituzionale. Ci siete. Rimanete. Ma non servite a nulla. Andate a casa. Siamo nei pressi del Simone Viti Maino. Come potrete notare alle nostre spalle un sovraffollamento di concittadini in attesa di poter elemosinare qualche busta di mondizia. Abbiamo un nostro concittadino qui presente che ecco si chiama lei. Francesco Specchia. Ecco che sta accadendo. Da quanto tempo lei è presente qui? Sono delle 16 qua. Ho riuscito a prendere il numero per domani. Non per oggi. Sì. Ieri sera hanno dato anche il numero. 150 hanno finito. Ma lei è a conoscenza del fatto che il contratto prevede la distribuzione presso le proprie abitazioni? Il sindaco è venuto dentro il centro anziano sotto la via. Ha detto faccio risparmiare 300 mila euro con i cittadini di Aldammu. Da quanto tempo lei non riceveva le buste a casa? Settembre. Nell'anno scorso? Esatto. Quindi è da quasi un anno? È scarso un anno. 10-11 mesi. Il suo pensiero per quello che sta accadendo ai nostri concittadini è normale tutto ciò? Non è normale. Se ci devo andare in un buonnesso e poi ci devo fare la fila. E quindi domani le tocca di nuovo tornare ad aspettare e fare di nuovo la fila? Esatto. Quante buste poi consegneranno? Ma non lo so, per due mesi, danno 60 buste. E poi tocca di nuovo tornare. E poi tocca di nuovo, lo so, lo so, lo so da vite qua. Ecco siamo ancora nei pressi del Simone Vittimaino e potrete guardare con i vostri occhi quello che sta accadendo. Abbiamo dei nostri concittadini che sono letteralmente imbestialiti perché sembra quasi di essere nel periodo di guerra quando si andava a chiedere il pezzo di pane con la tessera di povertà. Mentre il vigile cerca di riportare un po' di ordine, noi abbiamo alcuni concittadini. Fanno schifo anche loro. Lei ha preso il biglietto? Ho preso il biglietto. Però non è un modo di consegnare le buste in questo modo. Quindi per me è uno schifo. Ma lei è a conoscenza del fatto che il capitolato d'appalto, il contratto, prevede invece la distribuzione delle buste presso le abitazioni dei concittadini con una spesa mensile a carico della città e del comune di 36 mila euro al mese. No, io di questo non lo so. Quindi è un diritto sacrosanto legittimo quello che effettivamente l'Altamurano chiede a questa amministrazione. Certo, non solo lo sapeva, ma l'anno scorso lo aveva anche contestato. C'erano la mappa, cos'era o con colomba. No, proprio da chiedere se magari all'amministrazione non mi chiedono, a tutti quanti l'amministrazione perché non mi chiedono, ma che abbanno, tutti quanti anni. Si sono presentati qui i politici, gli amministratori a dare conforto, a chiedere cosa sta... No, qua non c'è nessuno, non è venuto nessuno. Quelli se ne fregano, se ne fregano tutti, se ne fregano. Ora lei ritornerà di nuovo domani ovviamente? Certamente, ho preso i biglietti e verrò domani. E domani stessa storia? Stessa storia, fino a che non si finisce tutto qua. Comunque ho detto che lo riportiate bene, che fanno schifo. L'amministrazione comunale, compreso il sindaco, la dieta tra Deco e Columella e anche i vigi urbani, perché anche i vigi urbani non fanno un servizio come si deve. Adesso hanno capito i vigi che i biglietti non devono andare fuori, ma... Oggi sono 300 persone, domani sono 300 persone, 400 persone, ha dato tanti numeri. Ma fa prima che dalle buste, no, i numeri, la delica, io ho pagato due bollette. Due bollette, mille euro, ci vuole la delica per prendere la buste. L'ho pagato io, della scambica. Perché ci vuole la delica, non ho capito. Di evitare questo atteggiamento di umiliazione. A 2016, ma stiamo scherzando. Boh, non so mai capito come si fa, andare avanti così. Quanti euro vate a buttare, 10 euro, ti vai a comprare le buste. Appunto, appunto, ci prendo la mondizia. Ma io ho preso 3 biglietti per mia figlia e mia moglie. Ora devo fare 3 giorni per la mia figlia, mia moglie, per avere le buste. Quanto mi costa? Quanto pagamento? Non riesco di essere ammazzati qua in questo casino. Rischi di essere accisato. Non riesco di essere accisato. Non riesco di essere accisato. Ma io non faccio, guarda, io sono prima, io sto prima di fare un casino. Ma siamo a scassare. Guarda, rischio vandalismo, non so pochino, no. C'è una cosa proprio, boh, come si fa a fare proprietà. Siamo qui con il consigliere comunale Pietro Mansi per constatare questa eccessiva situazione per quanto riguarda la busta dei sacchetti RSU. Pietro, tu cosa ne pensi riguardo a questa situazione indescrivibile? Quello che sta succedendo alle nostre spalle è praticamente vergognoso. C'è gente, soprattutto anziana, ferma qui ad aspettare dalle ore 14, in fila, attaccata vicino alle maniglie del portone per prendere posto. Ed è questo quello che sono riusciti a fare come amministrazione. Quando il capitolato prevede la distribuzione domiciliare a fronte di un pagamento in denaro da parte del comune di Altamura. Quindi l'amministrazione deve far sentire la propria voce. E non è possibile che i cittadini pagano un sacco di soldi per la spazzatura e hanno dei servizi del genere. Allora, siamo all'interno del Simone Vittimaino in compagnia del sindaco Forte. Sindaco, abbiamo raccolto fuori dalla porta d'ingresso la contestazione di decine e decine di nostri concittadini per quello che sta accadendo qui all'interno nella distribuzione delle buste. Si poteva evitare tutto ciò? Si poteva evitare se nel passato le amministrazioni mettevano ordine a quello che è un sistema che è unico in Italia e lo si fa soltanto ad Altamura. Solo ad Altamura si continuano a dare le buste. Allora, in un appalto vecchio di dieci anni... Ma ancora attivo? Ancora attivo per le proroghe. Per le proroghe. Questo sistema non funziona più perché i nuclei familiari sono aumentati di 10.000 negli ultimi dodici anni. E quindi un operatore che prima doveva girare intorno alla città a distribuire le buste per 20.000 nuclei familiari oggi si ritrova a distribuire le buste per 32.000 nuclei familiari. Ma è sempre la ditta che ci deve pensare. Certo, la ditta ci doveva pensare. Aspetta, non è terminato. Oggi noi diamo le proroghe da tre anni. La ditta è tenuta a consegnare le buste per un mese soltanto, per due mesi soltanto per le proroghe. Ciò significa che non finisce un quartiere che già dovrebbe ricominciare. Noi allora abbiamo chiesto alla ditta un impegno. E dobbiamo dire che questa ditta si è messa a disposizione. Si è messa a disposizione però con una certa chiarezza. Le altre volte che cosa si faceva? Si andava al comune, si consegnavano le buste, si presentavano questi documenti che vedete che la gente era abituata a fare le fotocopie. E quindi una famiglia ne prendeva tre, quattro, cinque. Adesso abbiamo un database. Riprendetelo, guardate. E c'è uno dello staff del sindaco che controlla. A noi non interessa se sono state pagate perché lì è Equitalia che provvederà. Noi siamo interessati soltanto a verificare se le buste vengono consegnate ai cittadini. Con gli operatori della Tradeco che ci danno una mano nella consegna delle buste. Stanno qui, ieri erano quattro, oggi stanno facendo la spola. Perché guardate quante buste hanno portato. Ma questo sindaco perché c'è un notevole arretrato? Ma c'è un arretrato perché te l'ho spiegato. Se io faccio un percorso, se io devo venire a casa tu e ho la proroga, mi hanno dato una proroga per l'appalto di due mesi, vengo a casa tua e ti do due mesi di buste. È chiaro? Dopo i due mesi c'è un'altra proroga di altri due mesi. Io sono già passato da casa tu con un operatore perché questo prevedeva l'appalto. Non poteva la detta, non può la detta dire ne devo mettere cinque. Ne mette soltanto un. Allora la questione qual è? La questione è chiara. Che io ho già detto in una riunione di capigruppo e dove sono stato massacrato, caro Alessio, sono stato massacrato da consiglieri comunali di opposizione che non leggono le carte. Perché due mesi fa... E che non sono neanche presenti fuori. Che non sono neanche presenti fuori. È chiaro che la gente è arrabbiata. Si sente abbandonata. Ma noi stiamo dando delle regole, cento al giorno, che poi non sono cento. Perché chi viene con la delega ne diamo 300. Quindi ogni giorno riusciamo a soddisfare. Quanto tempo ci vorrà? Ci vorrà un mese. Ci vorrà un mese. Ma lo faremo. Senza ulteriori aggravi sulle spese del comune. Perché si è preso l'impegno il sindaco col suo staff. Non ci sono impiegati comunali. Avremmo voluto qui la presenza dei consiglieri comunali che sono bravi a tirare fuori le buste e a dire sindaco e la busta. Oggi che noi abbiamo trovato una soluzione. Quei consiglieri comunali che escono fuori sindaco e la busta non si vedono. Non sono presenti. Forse perché abbiamo dato una risposta. Due mesi fa dicevo, avevo chiesto una gara a ponte. Ero stato accusato da voci di popolo. Ecco perché il mio, come dire, la mia contestazione dicendo adesso basta. Adesso farò querele per chi offende un sindaco. Non stiamo parlando di un cittadino. Stiamo parlando della dignità di un sindaco e della dignità di una città. E se un sindaco si deve sentir dire da qualche imbecille che si è venduto alla tradeco. Che si è venduto alla tradeco. Quando la tradeco si è messa sempre a disposizione. Vedete Federicos, la città pulita. Vedete la notte bianca. Io parlo con gli imprenditori. Io parlo con gli imprenditori che hanno vinto gli appalti pubblici. Perché agli imprenditori che vincono gli appalti pubblici bisogna chiedere anche un surplus. Bisogna chiedere qualcosa. Chi deve rispondere del passato? Non sono io. Allora io ho chiesto una gara a ponte. E sono stato sbeffeggiato. Il 19 agosto che cosa succede? Che la giunta regionale viene fuori con una nuova legge. Che prevede le gare ponte. Allora i partiti di opposizione devono avere il coraggio di tornare in tv e di dire che anche Michele Emiliano è un delinquente. Anche Michele Emiliano è un delinquente. Perché ha previsto le gare ponte? Perché sono previste le gare ponte? Perché appunto ti sembra normale che una gara affidata a Consip che costa nelle casse comunali più di 100.000 euro e nel totale 300.000 euro dopo tre anni non riesce ad essere aggiudicata. Ormai siamo agli sgoccioli. Di che cosa? Ormai la gara è quasi aggiudicata. Ti voglio ricordare che io i primi di luglio ero a Roma a Consip con i sindaci che fanno parte di Unicam e lì ci avevano assicurato che il 15 luglio avrebbero aggiudicato la gara. Avevano dimenticato il 15 luglio di quale anno. Consip il 3-4 luglio che dice a sette sindaci, il 15 luglio aggiudichiamo, siamo arrivati a settembre e ancora non sappiamo nulla. E chi ha avuto il coraggio di denunciare questa cosa? Le opposizioni mi hanno detto che ho la forza di bloccare una gara. Io che non faccio parte di Unicam, io che non sto in Unicam ho la forza di bloccare una gara. Ma siamo sul ridicolo cari concittadini, io posso bloccare una gara dove non ho voce in capitolo. Io ho soltanto detto questa è la documentazione, guardatela, quella documentazione l'ho trasmessa al Noe e insieme al Noe sono i carabinieri che guardano l'ecologia, l'ambiente, l'immondizia. Le abbiamo consegnate alla Procura della Repubblica, questo non le hanno consegnate le opposizioni. Le opposizioni che oggi in commissione vigilanza con un consigliere comunale del PD, Gino Lo Iudice, che spulcia tutto quello che questa amministrazione fa e chiede riscontro di tutto. Cinque anni fa, quattro anni fa, tre anni fa, due anni fa, un anno fa, che faceva ancora parte di quella commissione. Perché non ha chiesto le carte di questa gara? Devo pensare io che c'è qualche legame tra maggioranza e opposizione. E questa situazione dal primo ottobre termina. Perché non riusciamo a liberarci da questo pesante condizionamento, anche nelle buste dell'immondizia? Dal primo ottobre questo condizionamento cambia. Noi faremo sicuramente una proroga. Abbiamo scritto ad Unicam e a Consip dicendo quindici giorni fa cosa dobbiamo fare. Qui c'è una legge regionale che impone ad un sindaco di non dare più la proroga, altrimenti il sindaco se ne va in galera. Io proroghe non ne posso dare più. Al primo ottobre, cioè domani mattina, dopo quindici giorni, ancora devo ricevere una risposta. Che cosa ha fatto il sindaco? Mica le hanno fatte le opposizioni, mica le hanno fatti i cittadini. Non le hai fatto tu. Sai chi ha chiamato? Ha chiamato il commissario nominato da Vendola. L'avvocato Gian Dalliano, che è venuto ad Altamur e è venuto a dare delle indicazioni chiare che noi metteremo nella prossima proroga. Nella prossima proroga vedrete novità. Questo scempio terminerà. Questo scempio terminerà perché io non ho più l'esigenza di consegnare le buste. Uno li toglierò sicuramente. Ecco sindaco, questo scempio quanto costa le casse comunali per contratto? 320 mila euro l'anno. E quindi un servizio che avrebbe dovuto svolgere la tradizione. Che svolge, forse non è chiaro, che svolge su un contratto scaduto. Se io ti dico che devi pulire questo muro e scade il contratto e alla fine ti dico guarda dieci anni fa c'era questo muro, adesso devi pittarmi tutta la casa. Tu che cosa fai? Se la proroga deve farla. No, rispettando il vecchio contratto. Allora cosa vogliamo fare noi? Togliere questi soldi che sono sprecati perché non arrivano nelle case. Perché non è colpa. E tutti questi che non consentono. Non sono regolarmente pagati. Sono stati già pagati. Della consen... No, noi abbiamo sempre pagato perché abbiamo chiesto sempre un cronoprogramma. Noi abbiamo chiesto un cronoprogramma. Noi guardiamo le carte. Però alle continue lamentie degli altamurani abbiamo detto basta, adesso le diamo noi. Vogliamo controllare noi. Va bene? Questi quattro mesi vogliamo controllarli noi. Sappiamo che gli altamurani in questi quattro mesi avranno sicuramente le buste. Quando abbiamo scoperto, noi abbiamo fatto anche richieste di rimborso. Venite al comune e noi vi facciamo vedere le carte dove abbiamo chiesto alla ditta le multe. Abbiamo chiesto e loro ci hanno risposto con un cronoprogramma di quello che è stato fatto. Ma ripeto, non è colpa di una... Non voglio difendere l'azienda, io voglio essere imparziale. Come faccio l'azienda con un omino a farmi il giro della città e a distribuire 60 buste e non tutto l'anno? Perché io 60 ne devo dare. Perché ho la proroga di 60 giorni soltanto, è chiaro? Quindi non è colpa delle... non dobbiamo scaricare sempre le colpe sulle imprese. La politica è una responsabilità ed è responsabile di qualcosa. Io sono arrivato e ho detto si fa una gara a ponte. Mi hanno preso a pesci in faccia, è uscita la legge regionale. Sai in quanti comuni in Puglia già hanno approntato la legge, questa proroga? Sono già 19-20 comuni perché hanno i consiglieri regionali che li hanno avvisati. I comuni si sono approntati, si sono attivati. Noi lo faremo dal prossimo mese. Aspettiamo una... mi auguro che Consip domani mattina approvi. Io sarò il più... con i vincitori. Non sappiamo chi ha vinto, vogliamo il porta a porta, vogliamo che finisca lo scempio. Io ho notato soltanto una irregolarità, se a te non sembra una irregolarità, dove il segretario di Unicam scrive nel 2013 al comune di Altamur chiedendo di predisporre gli atti, questa lettera arriva al comune di Altamur. Il dirigente predispone gli atti che vengono portati per ben tre volte in Consiglio Comunale. Consiglio Comunale che non si celebra e questi vanno avanti nella gara palesemente sbagliando perché il regolamento recita in questo modo, se non c'è un atto ufficiale interviene il commissario ad acta lì, interviene il commissario... Il sindaco di Gravina Valenti ha dichiarato che è tutto nella normalità. E ripeto, se è tutto nella normalità, mi spiegate perché questa benedetta gara non viene assegnata? Se è tutto lineare, datemi voi una spiegazione, io non voglio... Ricorsi? Io? Quali ricorsi? Ma se non è stata giudicata nessuna gara? Quello di Nicola Clemente, forse? Ma dai, ma mi piace. Ma lo ha fatto comunque. Ha fatto un ricorso, ho capito, ma Nicola Clemente il 15 luglio non aveva presentato nulla ancora. Il 15 luglio Nicola Clemente non aveva presentato nulla. Un istituto nazionale governativo, Unicam, Consip, che dice sindaco tranquillo, fra dieci giorni è tutto a posto. Te l'ho detto, forse il 15 luglio non sappiamo di quale anno. Allora io sono il più contento perché ho necessità di partire. Io mi sarei aspettato qui un impegno delle opposizioni a fare in modo che la Regione, così come aveva promesso, restituisse quel milione di euro al Comune di Altamur che è stato il responsabile ancora una volta della non copertura sul territorio dei centri di raccolta perché l'amministrazione vecchia aveva presentato un progetto sull'area tua, non sull'area comunale. È chiaro? Queste sono tutte documentazioni. Lascia stare le parole. Ti prego Alessio, lascia le parole. Cercate di guardare gli atti. In questa città si dicono le assurdità. Voglio ricordare che qualche consigliere comunale di opposizione aveva promesso che sarebbe venuto con me a distribuire le buste nella città. Dove? Non si potevano prendere operai disoccupati, magari impegnarli nella distribuzione, impegnare una piccola spesa. E lì saremmo stati... E perché? E te lo dico subito perché saremmo andati in conflitto con una gara e sarebbe arrivata subito qui la Corte dei Conti. Qui non è una distribuzione diversa da quella che deve fare la Tradeco. Questo è un controllo che la mia amministrazione ha voluto fare perché è il buste, ormai la stupidaggine di Facebook, sì sindaco, è il buste, allora gli stessi dei Cinque Stelle, ma gli stessi consiglieri comunali dei Cinque Stelle che prima dicono la distribuzione delle buste la fa il sindaco e dice questa è la politica che fa il sindaco, questo è un controllo. Quali altre amministrazioni sono arrivate a fare questi controlli? Invece di dire grazie il sindaco sta controllando se realmente la Tradeco fa un servizio noi dobbiamo essere contestati, non possiamo mettere né operai del comune né operai del comune altrimenti si andrebbe in contrasto con quello che è il capitolato d'appalto né tantomeno fare dei voucher, io vorrei farli, ma qui sarebbe venuta la finanza a portarmi via. Quindi è tutto pensato, tutto studiato, mi sarebbe piaciuto dare qualcosa, lo stiamo facendo noi al di fuori, al di fuori di quello che è un impegno istituzionale. Un ultimo minuto a disposizione per tranquillizzare anche i tanti anziani che trascorrono l'urio. Agli anziani dico state sereni e tranquilli, stiamo dando dei bigliettini, siamo arrivati al 14, quindi stiamo distribuendo dei bigliettini, 100 bigliettini, sai perché 100? Ieri ne abbiamo distribuiti 300, cioè 300 nuclei familiari, oggi siamo scesi a 100 per un semplice fatto, perché arrivano i nostri concittadini con le deleghe, ci sono persone che vengono e portano la delega del figlio, della figlia, della nuora e quindi diamo ogni giorno 300, serviamo 300 nuclei familiari. Ai miei concittadini dico non accalcatevi, se non è oggi e domani, e ad alcuni cittadini per esempio della zona di Trentacapilli, l'ho detto oggi e lo ripeto e vi ringrazio per darmi questa possibilità, chiederemo a Don Nunzio uno spazio giù in chiesa, così le persone che non potranno venire qua di quel quartiere nei prossimi giorni noi ci... Servirebbe farlo in vari luoghi? Servirebbe farlo in vari luoghi, ma... Andremo ad alleggerire un po' il peso dell'attito. Sì, le forze sono queste, se qualche consigliere comunale... Punto. Se qualche consigliere comunale... Si può tranquillamente attingere dai consiglieri comunali, maggioranza opposizione. Io non posso chiedere e pretendere nulla da nessuno, io sono qui. Guardate questo è un impegno pubblico che va oltre, c'è chi vuol farlo, c'è chi si vergogna, c'è chi dice che non è mia competenza, io sono il primo cittadino, lo faccio con onore, non mi vergoglio forse perché sono stato sempre abituato a lavorare e questa volta voglio controllare. E ringrazio, e mi dovete permettere di dirlo, io devo comunque ringraziare la Tradeco, perché la Tradeco avrebbe potuto pure dire, questo è un servizio che aspetta a me farlo, tu non devi entrare in questa cosa. Ci ha dato la volontà, la possibilità di farlo, noi lo stiamo facendo. Grazie sindaco. Grazie a voi, di cuore, veramente grazie. Grazie a voi.